Ciao a tutti! Con questo tutorial cominciamo una serie di lezioni dedicata all'esplorazione di tutte le proprietà interne dei livelli di testo. Oggi in particolare vedremo quelle proprietà che ci permettono di distribuire un testo lungo un tracciato. Bene, come vedete il livello di testo questa volta l'ho già pronto e il testo è Motion Graphics. Veniamo subito nella timeline, apriamo il contenuto di questo livello testo e come vedete qui c'è una sezione Text che per l'appunto contiene tutte le proprietà che riguardano il testo. Apriamo il contenitore Text e oggi ci preoccupiamo della sezione Path Options, le opzioni del tracciato. Nelle lezioni successive vedremo anche le altre proprietà e soprattutto quelle che stanno all'interno di questo menu Animate. Eccole qua. Bene, quindi innanzitutto abbiamo bisogno di un tracciato per distribuirci il testo sopra. Allora selezioniamo il livello testo, prendiamo lo strumento pennino, incomincio per esempio in questa zona qui, poi vengo qui in basso, disegno un secondo punto e poi un terzo punto qui sulla destra con questa direzione. Benissimo. Questo tracciato come sappiamo non è nient'altro che una maschera e in questo caso una maschera con tracciato aperto. Ora veniamo qui nella sezione Path Options, apriamo il contenuto e abbiamo un unico parametro Path. Qui sulla destra c'è un menu a tendina che al momento ha la voce No, noi ci clicchiamo sopra e attiviamo la maschera 1 che abbiamo appena disegnato. A questo punto il testo viene distribuito lungo il tracciato e viene posto esattamente a metà del tracciato e appena ho scelto Mask 1 si sono aggiunte altre cinque proprietà qui all'interno di Path Options. Incominciamo da Reverse Path. Vediamo cosa ci permette di fare. Al momento è su Off. Se noi ci clicchiamo sopra si attiva questa proprietà e, come era facile immaginare, il tracciato si inverte e quindi anche la posizione del testo lungo il tracciato viene invertita, in questo caso capovolta. Ma in questo caso particolare è meglio che Reverse Path rimanga su Off e quindi ci riclicchiamo di nuovo e il testo ritorna di nuovo dritto come prima. La seconda opzione, Perpendicular to Path, è impostata su On. Proviamo a spegnerla impostandola su Off e in questo caso cosa succede? Che le lettere tornano nella loro direzione verticale come erano all'origine, mentre quando il parametro è su On ogni lettera si mette in direzione perpendicolare al tracciato e anche in questo caso qui direi di lasciare l'impostazione di base su On. La terza opzione Force Alignment la vediamo tra un attimo. Prima andiamo agli ultimi due parametri. Vediamo cosa servono. Incominciamo dal primo. Se aumentiamo o diminuiamo questo parametro il testo scorre avanti o indietro lungo questo tracciato e volendo possiamo farlo scorrere oltre il tracciato e in questo caso il testo prosegue con la direzione che il tracciato ha sull'ultimo punto e se lo facciamo scorre a direzione opposta oltre l'inizio del tracciato vedete che scorre fuori mantenendo la direzione che ha sul primo punto. Riportiamo il tracciato di nuovo alla posizione originale. Proviamo ad agire sul Last Margin. Se aumentiamo o se diminuiamo questo valore otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto lavorando sul primo margine, sul First Margin. Quindi è indifferente se usiamo uno o l'altro. Per esempio possiamo far scorrere il testo lungo tutto il tracciato usando soltanto il primo margine, First Margin. Quindi per esempio al tempo zero possiamo mettere Motion Graphics fuori dall'inquadratura a sinistra, per esempio in questa posizione. accendiamo l'orologio di First Margin, poi prendiamo il cursore e avanziamo nella timeline per esempio un paio di secondi e aumentando il valore del primo margine possiamo far scorrere la scritta lungo il tracciato e fare in modo che esca dalla composizione a destra. Proviamo a fare una preview ed ecco animato un testo lungo il tracciato usando soltanto il parametro First Margin. Benissimo, adesso eliminiamo l'animazione appena fatta cliccando di nuovo sull'orologio First Margin, riportiamo il First Margin al suo valore originale che è zero e adesso concentriamoci sul parametro Force Alignment e vediamo cosa serve. al momento impostato su OFF lo accendiamo e come vedete a questo punto il testo viene distribuito uniformemente lungo tutto quanto il tracciato. La M si trova in corrispondenza del primo punto del tracciato e la S in corrispondenza dell'ultimo e tutte le lettere intermedie vengono distribuite con distanza uniforme. E per riavvicinare o allontanare le lettere possiamo usare di nuovo i due parametri First Margin e Last Margin. Proviamo a lavorare sul primo dei due parametri e come vedete spostiamo soltanto il margine sinistro questa volta e così facendo tutte le lettere si riavvicinano e se invece diminuiamo questo valore le lettere intermedie si separano ancora di più. Bene, mentre se lavoriamo su Last Margin in questo caso è solo il margine destro quindi l'ultima lettera che si muove. Quindi ripetiamo di nuovo nel caso in cui Force Alignment è spento lavorare su First Margin o su Last Margin è indifferente otteniamo la stessa animazione mentre invece se Force Alignment è acceso allora con il primo parametro spostiamo soltanto le prime lettere e con il secondo parametro spostiamo le ultime. Benissimo proviamo a vedere di fare anche un'animazione in questo secondo caso portiamo il cursore al tempo zero. Facciamo in modo che il primo margine sia all'inizio del tracciato e diminuiamo anche il valore di Last Margin in modo tale che tutte le lettere siano compresse nel punto iniziale. Adesso possiamo accendere entrambi gli orologi di First and Last Margin e dopo un paio di secondi possiamo per esempio aumentare il secondo margine fino a questo valore qui mentre invece il primo margine lo possiamo aumentare fino a quando le lettere non si trovano di nuovo a una distanza leggibile per esempio qua. Facciamo una preview come vedete posso far scorrere le lettere lungo il tracciato e contemporaneamente aumentare lo spazio tra le lettere. Benissimo. Ora prima di concludere vediamo anche il caso in cui al posto di un tracciato aperto come questo abbiamo un tracciato chiuso quindi eliminiamo questo tracciato seleziono maschera 1 e la cancello prendo questa volta lo strumento ellisse e disegno un cerchio qui sul livello di testo e quindi tenendo premuto il tasto shift ottengo facilmente un cerchio di questa dimensione qua. Innanzitutto la maschera essendo un tracciato chiuso ritaglia il livello testo infatti io vedo il testo soltanto all'interno del cerchio quindi la prima cosa che dobbiamo fare fare in modo che la maschera non funzioni come ritaglio per farlo basta venire qui nella timeline a fianco alla maschera abbiamo questo menu a tendina nel quale se scegliamo la prima voce non il tracciato della maschera rimane però non ritaglia più il livello all'interno del quale si trova. Bene adesso torniamo nei parametri path options e associamo il testo alla maschera 1 di nuovo. Come abbiamo visto prima immediatamente il testo si posiziona a metà del tracciato quindi in questa posizione se vogliamo farlo scorrere lungo il cerchio dobbiamo lavorare su uno degli ultimi due parametri per esempio il primo margine first margin possiamo portare se vogliamo il testo in cima al cerchio. Ecco in questo caso ad esempio se non vogliamo vedere il testo capovolto dobbiamo modificare il primo parametro reverse path. Da off dobbiamo impostarlo su on. Bene ultimissima cosa che voglio farvi notare è come il testo viene distribuito lungo un tracciato. Notate che è la base delle lettere che appoggia lungo il tracciato ma se noi vogliamo alzare o abbassare la posizione del testo lungo il tracciato allora dobbiamo usare uno dei comandi che si trovano nella palette character e per la precisione questo comando qui il baseline shift. Se noi lo aumentiamo come vedete il testo si alza rispetto al tracciato e se lo diminuiamo si abbassa. Quindi la posizione verticale del testo lungo il tracciato può cambiare se noi modifichiamo il valore di questo parametro qua il baseline shift. Quando il valore di questo parametro è a zero la base del testo appoggia perfettamente lungo il tracciato. Benissimo direi che per quanto riguarda le modalità di distribuzione di un testo lungo un tracciato possiamo fermarci qua e quindi ci vediamo alla prossima ciao